Buonasera, buonasera a tutti, allora come vi dicevo siamo qua in diretta sul nostro canale Radio Vettrina qui su Spreaker.it e voi ci potete ascoltare chiaramente ovunque, sui vostri smartphone, sui vostri pc chiaramente scaricando l'applicazione Spreaker.it, ricercando il canale Radio Vettrina e poi entrando così in contatto con la nostra live o i nostri podcast abbiamo aperto anche la chat e quindi per tutti i ragazzi che ci vogliono così chiedere da dove trasmessiamo, chi siamo, che genere di musica facciamo che cosa è la nostra radio o la chat è aperta, noi vi aspettiamo qua su Radio Vettrina A presto! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501